Raga, unboxing da Level 1 Rodri, vieni qua, Rodri, vieni qua Piccolo aneddoto prima dell'unboxing Noi siamo conosciuti in fila a Lione iPhone 5S 5C Quando eravamo così desperati che dormivamo con i sacchi a pelo Per avere per primi gli iPhone Quanta strada Io sono invitato vecchio, tu hai aperto un negozio Grazie di avermi invitato E mi hai recuperato due chicche Tra l'altro sarà un unboxing condiviso Fate pure casino, fate quello che volete Grazie, grandissimi Ovviamente L'applauso Grazie, no, veramente È sempre bellissimo incontrarvi L'applauso è anche un po' a questo Oppo Find N1 2, giusto, bravo Perché Oppo non ce lo porti in Italia? Questo che è, so già Un gioiellino Perché è veramente come Quasi un telefono normale Forse un pochino più pesante Attorno ai 240 grammi Ma 14 mm spessore 14,7 7,4 Quando è aperto Non ha il software in italiano Ovviamente è di importazione Audio stereo Snapdragon 8 Plus di generazione 1 Cosa vuol dire? Circa un 10% più veloce Dello Snapdragon 8 di generazione 2 Cioè 1 Circa un 10% più lento Del generazione 2 Quindi un po' una via di mezzo Non tanti telefoni lo useranno O l'hanno usato Ma un po' chi se ne frega Ormai le prestazioni di top di gamma Sono tutte un po' uguali Accensione e spegnimento Qua sulla destra Con l'accensione Lo sblocco Con l'impronta digitale Sotto appunto Audio stereo Sto invecchiando E quindi serviva il bigino Che dice 7,1 pollici 120Hz HDR10 1550 nizzi picco LTPO AMOLED Adesso ve lo do Così mi direte voi Se si vede Tanto o poco La piega Un filino Si vede Però Voglio dire Non mi sembra tantissimo E fuori Un display Bello Perché guardate Full display Da 5,54 pollici Anche lui AMOLED Un po' meno luminoso Non capisco questa scelta Di avere un display fuori Un po' meno luminoso 1300 nit Comunque tanto luminoso Rispetto a un display interno Ancora più luminoso Però su tutto Sai dove vado Domenica o lunedì martedì? Norvegia Un metro e mezzo di neve Meno 18 A provare camion elettrici Me lo porto Me lo porto perché Molto figo Così proviamo anche le cam 50 megapixel 32,48 Normale 2x O grandangolare Mentre io apro Ve lo faccio vedere Dai dateli un'occhiata Così poi mi date dei feedback In dotazione Ovviamente cinese Perché là arriva L'ha stato presentato E là lo vendono Carica batterie Purtroppo non hai wireless Il Find N2 67 watt Poi qua abbiamo il cavo dati E direi che non c'è null'altro Non vi dico il prezzo Perché non arriverà Però arriverà il flip Di Di Oppo Perché non arriva? Perché Oppo dice Non c'è tanto mercato In Italia Sui foldable D'accordo? Non d'accordo? Non lo so Secondo me per lui Ci sarebbe mercato Perché è veramente Un form factor Diverso dagli altri E poi X90 Pro Di vivo Vivo Un po' di nicchia Da noi Perché in Italia Ufficialmente È arrivata Non da tantissimo Diciamo Due anni fa Ma l'anno scorso C'è caduto un po' di più Però in Cina È uno dei brand Che vende Più telefoni Tra l'altro Wow che bello Questo retro Così rosso In similpelle E già Il top di gamma Dell'anno scorso Mi aveva stupito Top camera phone L'avevo definito Perché faceva Veramente Veramente Delle belle foto È un padellone Totopolliciaggio Secondo voi quant'è? Io 6,7 6,7 Tanto 6,8 6,8 È esattamente 6,78 pollici Avete l'occhio clinico Bravi 5,7 ppi Quindi più del full hd Anche lì Tanta luminosità 1800 nits addirittura 120 hertz E Snap dragon 8 Quello sì Che ha La rimoglio Devo approssarlo Poi Poi ve lo passo Aiuto E tutti in cinese C'è l'italiano Ma lo chiede Lo dovete dare In cinese Curvi I bordi Io non ho particolarmente I telefoni con i bordi curvi Molto curioso Di farci un giro Non tanto per il software Ma curioso di provare Questo snapdragon 8 Generazione 2 Ovviamente tutti i due telefoni Hanno android 13 Fotocamera Che era un po' Il punto forte Del precedente 50 megapixel Principale 64 La periscopica 3.5x Ma c'è anche La 2x E la grandangolare Strana cosa Che le grandangolari Stanno un po' Rimpicciolendo Non 120 gradi Ma 114 Questo Mentre L'N2 115 Gradi Batterie 4700 mAh Mi sarei aspettato Almeno una 5000 Visto il peso 220 grammi E anche qualcosa Di più Però C'è a dire Che Snapdragon 8 Gen 1 È un processore Che non consumava tanto Questo dovrebbe essere Ancora meno Energivoro Dovrebbero bastare Sia la 4.7 di questo Sia la 4520 Del N2 Io direi che L'unboxing È finito Perché abbiamo aperto tutto Poi Vabbè Qua c'è la Clippettina Per toglierla Sim Entrambi sono Dual sim Entrambi non hanno L'espansione di memoria Qua il caricabatteria Arriva a 80 watt Qua c'è la ricarica Wireless A 50 watt Bella la cover Che è praticamente Uguale alla cover Quindi cover Su cover Giustamente così Oh Voglio mantenere la stessa estetica Ma voglio proteggerlo un po' C'ho la cover Genialata di Vivo Poi il cavo Dati Che Cioè Visto che passano 80 watt È grande come il mio cavo Che porta la 220 a casa E poi Appunto Il caricabatterie Do la parola a voi Addirittura E così ti sentono Io ho il mini Quindi a me i padroni non piacciono Però questo è veramente carino Mi chiedo dopo un po' di mesi Come va a finire la piega Un aggettivo per lui Moderno Delicato Poi inutile Adesso ho capito Perché Oppo non lo porta in Italia Forse ha ragione Forse è inutile Interessante Se arrivasse in Europa Lo sarebbe ancora di più Piccolo Però comodo Futuristico E mi piace la linea Elegante È un aggettivo per lui Così su due piedi Mi viene da dire tamarro Per i colori Robusto Di design Tamarro Cinesone Però molto figo Non lo so Simpatico Molto bello Però Tamarro Bel grip Però Poco originale Pesante Padellone Comunque su tutto Grazie Perché è sempre bello Incontrarvi Grazie ragazzi Ciao Rodrig Cioè grazie Per l'invitato Spettacolo C'è qualcosa Il tuo negozio Grazie a te Grazie alla gente che è venuta E niente Ma il prossimo iPhone Facciamo ancora nottata? Ma sì Ma che cosa Fortunatamente ormai me li mandano Pure in anteprima Ormai sono vecchio Ciao Ciao Grazie a tutti